Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Sacrificio Immenso. Spero che dopo la spedirete su tutti i vostri contatti Whatsapp e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Sacrificio Immenso perché ritengo che tutte le persone, indifferentemente dal ruolo, che siano qualcuno madre, nonna, nipote, figlio, prete, banchiere, Presidente della Repubblica, tutti devono dare il proprio sacrificio immenso, migliorando e sacrificandosi ogni giorno per spingere autenticamente tutti verso delle mite eccelse, verso qualcosa di grandioso che spinga gli altri a vedere la bellezza vivace della vita. Vi leggo adesso la poesia dal titolo Sacrificio Immenso. Che tu sia madre, figlio, padre, nonna, zio, zia o nipote, devi dare il meglio di te. Ogni uomo deve sacrificarsi immensamente e sempre affinché il suo da farsi lo spinga ad opere autentiche. Ogni vivente deve sacrificare la sua vita per gli altri. Ogni uomo deve lavorare per realizzare i diversi propositi. Sacrificio Immenso spinge ogni persona a donare il meglio che ci può essere nella nostra vita esemplare. Grazie.